Il caso della presunta precarietà del viadotto Morandia d'Agrigento, sopra luogo con l'Associazione Ambientalista Mare Amico, Irene Milisenda. Dal nord al sud i riflettori sono puntati sulle strade e sui viadotti poco sicure che versano davvero in pessime condizioni, spesso non prese in considerazione dei soggetti responsabili alla manutenzione e alla difesa della pubblica incolumità. In Sicilia d'Agrigento uno dei viadotti che solleva maggiore preoccupazione è il Morandi o Agragas che collega la città alla sua antica marina Portempedocle. Il viadotto Morandi risalente ai primi anni 70 nel tempo ha subito chiusure temporanee da parte dall'ANAS e riaperture con restrizione di carreggiata a fronte poi dell'annuncio dell'inizio dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Fino ad oggi però i lavori non sono mai iniziati e gli automobilisti ovviamente timorosi pur di non attraversare il viadotto sono costretti ad allungare il tragitto per raggiungere Agrigento Portempedocle. E' certamente una situazione non agevole adesso alla ribalta dell'attenzione nazionale grazie all'Associazione Ambientalista Mare Amico che ha documentato e denunciato le precariette del ponte. Il problema principale è che il calcestruzzo non è eterno anche perché spesso viene utilizzata la sabbia di mare invece di quella proveniente dai fiumi e poi perché la sezione dei tondini di ferro è spesso inferiore a quella prescritta. Nel frattempo il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, dopo la diretta con il noto programma La vita in diretta ha incontrato i vertici ANAS e assicura mi hanno confermato che in settimana si procederà all'apertura delle buste per l'apparto di manutenzione del viadotto Agragas finalizzato all'eliminazione del ristringimento di carreggiata attualmente presente. Ci hanno anche rassicurato sul costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza del viadotto. Ho richiesto ulteriori esami ed approfondimenti sulla struttura. L'ANAS dice che non ci sono pericoli da un lato dall'altro che entro il giorno 10 aprile ci sarà un finanziamento di 500 mila euro per sistemare un po' la cosa ma la cosa che ci lascia più perplessi è che ieri parlando con il numero uno dell'ANAS in Sicilia che stanno preparando un bando per la manutenzione straordinaria del Ponte Morandi spendendo la base d'asta di 20 milioni di euro. È una cifra incredibile che ci lascia molto preoccupati perché ci fa capire che effettivamente allora qualche problema c'è. Se tu cerchi di spendere 20 milioni di euro per mettere in sicurezza qualche problema c'è. E che qualche problema ci sia è stato dimostrato dal fatto che c'è un ristringimento allo stato attuale di questo ponte si passa solo nelle corsie interne, non è permesso passare nelle corsie esterne e non è permesso far passare mezzi pesanti superiori a 3.5 tonnellate. Quindi qualche problema c'è. È una manutenzione che non a poco serve con questa cifra. Cosa si potrebbe fare di più? Allora noi abbiamo da qualche giorno lanciato la proposta. Anche ieri le telecamere di Rai 1 e La Vita in diretta hanno fatto uno stand proprio sulla necropoli Pezzino dove lo Stato ha conficcato i piloni del ponte Acracas. Se dobbiamo spendere 20 milioni di euro per la messa in sicurezza di un ponte che già ha 45 anni oggi iniziamo a pensare l'idea, a valutare l'idea di abbatterlo e liberare la Valle dei Templi da questo mostro diciamoci lo chiaro, dal punto di vista paesaggistico il Ponte Morandi è un mostro e quindi ripristinare il paesaggio che vedevano gli antichi greci 2.000 anni fa.